Allora ragazzi come vedete sono sul set di Equivalenza, tra un poco saremo in diretta sul loro profilo e anche sul mio, quindi mi raccomando non mancatevi, vi aspetto in numerosissimi. Vi ringrazio di persona per essere stati in tantissimi a seguire la diretta e poi volevo dirvi come vedete sono in stazione di nuova in partenza perché domani sarò presente a Palermo al centro commerciale Forum per l'inaugurazione di Ciugwey. Quindi mi raccomando amici siciliani vi aspetto in numerosissimi per darvi un abbraccione.